Le sfide hanno a avere con ripensare le strutture del turismo, perché il turismo non può avere una recuperazione facendo lo stesso che ha fatto prima. C'è un sfido importante con la sostenibilità, con il cambio climatico, con la situazione economica, con l'energia e tutto questo deve adattarsi. Anche il cambiamento della domanda, le aspettative dei turisti sono diverse adesso, cercano delle destinazioni più sostenibili, destinazioni che offrono una sicurità della salute, dell'igiene, c'è la connettività. Tutto questo ci sono sfide in quelli che abbiamo lavorato all'Oman e soprattutto di costruire esperienze diverse, perché adesso il turista della nuova normalità chiederà anche esperienze molto più personalizzate, molto più diverse di quelle di prima e non massificate.